Alla ricerca della sicurezza. Protesi mammarie made in Germany. Polytech Health & Aesthetics è uno dei principali produttori di protesi in Europa, con oltre 30 anni di esperienza nel mercato delle protesi mammarie. La sicurezza è uno dei nostri valori fondanti. Ma come si producono delle protesi mammarie sicure? Fin dal 1995, in qualità di uno dei primi produttori, Polytech ha ricevuto l'autorizzazione a contrassegnare i propri prodotti con il marchio CE. Nel 2003, l'Unione Europea ha deciso di elevare la classificazione delle protesi mammarie, qualificandole come dispositivi medici di classe terza. Questo è il gruppo dei prodotti ad alto rischio, che include dispositivi quali pacemaker e valvole cardiache. I nostri prodotti sono stati immediatamente approvati. La produzione delle protesi mammarie è soggetta a regole molto severe. Come si arriva alla approvazione o certificazione di una protesi mammaria? Nell'Unione Europea, la certificazione dei dispositivi medici è regolata dalla direttiva sui dispositivi medici. Nei Paesi membri, questa direttiva è implementata attraverso le leggi nazionali su tali dispositivi. La procedura di certificazione obbligatoria impone ai produttori di dimostrare la sicurezza ed efficienza dei prodotti. Prima di tutto, viene individuata la classe di rischio di un prodotto. Più alta è la classificazione del rischio, più severe sono le procedure di certificazione o le procedure di valutazione della conformità. Le protesi mammarie, qualificate come prodotti ad alto rischio, sono quindi dispositivi medici di classe terza. La certificazione delle protesi mammarie prodotte da Polytech Health & Aesthetics è soggetta alla procedura prevista dall'Allegato 2 della direttiva 93-42-EEC, incluso il punto 4 dell'Allegato. Questa procedura di valutazione della conformità implica l'adozione di un sistema di gestione della qualità e una verifica della progettazione del prodotto. Tutti i produttori che aderiscono a questa procedura di valutazione della conformità devono applicare i cosiddetti standard armonizzati, se esistenti. Gli standard armonizzati sono standard che esperti indipendenti dell'Unione Europea hanno eletto come idonei a garantire la sicurezza e l'efficacia dei prodotti. Lo standard applicabile alle protesi mammarie ISO 14607 è stato armonizzato. La procedura di valutazione della conformità è realizzata da un ente certificatore, cioè da una società con mandato pubblico. La certificazione deve essere rinnovata annualmente, in una procedura di verifica chiamata Audit che dura diversi giorni. Oltre a quelli programmati, vi sono anche Audit a sorpresa. Durante un audit, l'ente certificatore ispeziona tutti i processi, nonché i luoghi dove essi si svolgono, verifica se essi corrispondano o no alla documentazione e ne verifica anche la conformità agli standard applicabili. L'ente certificatore esamina tutti i nostri prodotti, specialmente le protesi mammarie, tutte le procedure, come la sterilizzazione e il confezionamento, i sistemi di verifica che garantiscono la sicurezza biologica e clinica dei prodotti, le camere bianche, l'etichettatura dei prodotti, le istruzioni per l'uso e molto altro. Gli ispettori dell'ente certificatore controllano anche l'intera catena dei prodotti, dalle materie prime al prodotto finito. Essi ispezionano i locos e l'implementazione di tutti i processi, ad esempio la gestione degli ordini, degli acquisti, della produzione, dello stoccaggio, della spedizione, sia conformi ai requisiti di legge. Solo se e quando tutti i requisiti essenziali sono stati soddisfatti, e ce ne sono molti, la certificazione CE verrà approvata. L'ente certificatore di cui si avvale Polytech Health & Aesthetics è la società MDC, ossia Medical Device Certification LTD, con sede in Germania, a Stoccarda. In aggiunta alle verifiche esterne, noi stessi abbiamo implementato numerosi controlli qualità interni. La qualità è stato il nostro impegno fin dal principio. Siamo rimasti fedeli a questo impegno e nel 2008 lo abbiamo rafforzato ancora di più, concentrando la nostra intera produzione presso il nostro quartier generale a Diburg, in Germania. Polytech Health & Aesthetics. Qualità made in Germany.